Ciao a tutti! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Dopo averlo detto un sacco di volte oggi io e Alissa l'abbiamo fatto! Il villaggio delle Pinipon! Esatto! Abbiamo praticamente invaso la cameretta visto che qui c'è un po' più di spazio e questo tappeto con tutte le strade poi fa proprio pensare a una città abbiamo montato tutti i nostri set delle Pinipon e abbiamo creato una piccola città dove c'è praticamente tutto! E abbiamo anche creato le nostre personaggine questa sono io! Ho anche il cellulare in mano pronta per fare un video e questa qui vicino a me è Alissuccia! Ciao! Ciao Alissa! Eccomi qui vicino alla mia personaggina! Mi assomiglia un po'? Mi assomiglia a me! E questo dietro di noi invece è il nostro nuovissimo fantastico camper che fra poco vi faremo vedere però prima facciamo un giretto per questa città che ne dici? Sì! Andiamo al parco giochi! Va bene però passiamo un attimino a casa giusto per salutare un po' i nostri animaletti dai! Ok! Qui c'è la nostra casetta di pan di zenzero e dentro infatti c'è il caminetto però oggi è una bella giornata non ci serve la stufa e qui invece ci sono Kiro e Bia state bene piccoli? Sì! Allora possiamo andare al parco e lasciarvi qui tranquilli eh! Fate i bravi! Ma che fine ha fatto Alissa? Ah! Eccola qua! Ok! Allora andiamo al parco giochi? Va bene dai Tante è qui vicino! Forza! Corriamo! Ecco! Siamo arrivati! Wow! Ma qui c'è anche Daniel! Ciao mamma! Ok! Facciamo un po' un giretto in questo parco giochi vediamo cosa c'è! Allora qui ci sono i bambini che giocano sulla sabbia sì c'è anche il secchiello sì poi qui si ci può arrampicare oh attenta eh sei in alto ah! qui c'è anche una fontanella per bere ehi c'ero prima io togliti ah! mi hai fatto bagnare tutta ok e di qua guarda un po' lo scivolo tunnel trasparente lo vuoi provare? sì! Io ho un po' paura di fare questo scivolo sono salita però adesso non ho il coraggio di scendere allora mi sono messa a raccogliere i fiori dall'alto ok allora io vado ah vabbè ma allora non fa paura mi butto anch'io ehi! prima aspetta che scenda lissa ops scusa non sono esperta di scivoli sono solo esperta di fiori con questo si sale si sale e poi lascio? si sì però fa girare un po' la testa eh ed ecco un altro modo alternativo per scendere giù dallo scivolo anzi al posto dello scivolo alissa facciamo questo insieme? si uno due tre via attenti ragazzi vi girerà la testa venite a fare un po' di altalena dai mentre alissa è sull'altalena anche io voglio giocare a qualcosa e qui ho visto proprio qualcosa che mi sembra molto divertente il trampolino è bellissimo vieni alissa, vieni a provarlo ok faccio sempre così che mi attrappa la rete da questa parte invece c'è la scuola buongiorno maestra veramente qui staremo facendo lezione? lo so, non volevamo disturbare solo che volevamo far vedere come avevamo sistemato tutta la scuola guardate che lavoro di precisione abbiamo messo proprio tutto ci sono i bambini che studiano qui ci sono tutti i vari materiali anche qui dentro ci sono un sacco di cose tutte belle ordinate qui c'è la fattoria questa l'ha sistemata tutta lissa, vero? si vediamo un po' cosa ci hai messo allora qui c'è la mia amica Penny ah ciao Penny invece qui ci sono i due pulcini invece qui sopra c'è la gallina femmina che è quella gialla invece quella maschia è quello marroncino ah ho capito e le mucche sono nella stalla invece ah eccole qua c'è anche il vitellino appena nato e poi qui si apre e c'è la stanza da letto anche qui si apre e ci sono le pecorelle ma ora andiamo a vedere il pezzo forte della giornata il camper eccolo qui già da fuori è super bello qua c'è il posto di guida lissa puoi anche salire eh wow ora vediamolo dentro scendiamola qui si apre e questa diventa una piscina con il trampolino che adesso riempiremo anche di acqua ma prima vediamo qua dentro eh si apre così qua ci sono i nostri due letti castello sì invece questo qui invece la palla da discoteca si mette così si illumina perché questo ragazzi è un camper per le feste non è un camper normale non si vede tanto la luce perché è giorno c'è la luce quindi si vede poco e questa palla può andare anche nella piscina infatti dopo ce la voglio mettere poi qui c'è il barbecue guarda già qui c'è un buonissimo panino e due spiadini oh che fame invece qui c'è l'armadio che prima di aprire puoi vederti allo specchio ciao alista al selfie stick sì così così mi posso fare i selfie e qui dentro invece cosa ci abbiamo messo ci abbiamo messo tutte le nostre cose e c'è anche la mia chitarra perché se no che festa è senza musica però la musica la possiamo anche mettere con le casse prendiamo le casse e le mettiamo qua una e due invece questo è il water si apre ecco e possiamo andare in bagno io ho la vergogna perché non c'è una porta che almeno si chiude mi faccio vedere e vabbè ma tu quando sei in bagno dici bagno occupato e nessuno entra e poi aspettate perché non è mica finita qua c'è l'armadio dei vestiti e anche di altre cose che non ci può mettere vediamo cosa ci abbiamo messo che non me lo ricordo neanche ora c'è un po' di tutto ci sono gonne ma cos'è questa c'è anche una cacchina chi è che ha messo la cacca nell'armadio questo va qui casomai ecco qui c'è veramente di tutto ragazzi c'è anche il porta borse è un camper super accessoriato però ora che ve l'abbiamo fatto vedere io voglio fare un bel tuffo in piscina sei pronta Alissa? si ecco qua ho messo anche i festoni adesso è tutto pronto per la festa Alissa hai riempito la piscina? si vediamo un po' ma tu ti sei già messa anche il costume eh si vediamo un po' la piscina wow c'è anche la luce illuminata proviamo a spegnere la luce vediamo che effetto fa ok wow bellissima solo che adesso non vedo niente che luce ok io sono nella mia postazione da DJ come vedete qui non c'è acqua così posso rimanere vestita e non mi bagno uno due tre ehi mi hai fatto cadere anche a me fa nuotare benissimo guarda uno due tre ci vuole restare nella vita reale è troppo ehi non resisto mi tuffo da vestita è bellissimo giocare con l'acqua ehi mi avevate lasciato al parco scusa beh mi tuffo anch'io con la tua felca sono l'unica in costume ehi non avevo voglia di cambiarmi e la DJ? la DJ? volevi starci nella vita reale? vuoi starci nella vita reale? non mi schizzo io no no non ti schizzo ti sei schizzata ma ti sei divertita a creare questa città delle pinipon? sii dopo arriva Daniel trova il suo tappeto tutto pieno d'acqua dice ma cosa è successo qua? non mi è vabbè ragazzi questa è la nostra città delle pinipon almeno per ora perché poi può darsi che con il tempo prenderemo anche qualche altro set e potremo espanderla sempre di più solo che poi il tappeto di Daniel non ci basterà più e invaderemo tutta la casa comunque ragazzi questa è la nostra città delle pinipon per oggi il nostro video finisce qui speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao